benvenuti in questo nuovo video delle anticipazioni giornaliere di una vita oggi vi sveleremo le trame degli episodi italiani che andranno in onda il 26 giugno ascoltate con attenzione fino alla fine e non dimenticate di lasciare un bel mi piace felipe fa una promessa a consuelo lui non si opporrà all'annullamento del matrimonio ma ad un patto la donna dovrà dire alla figlia di essere malata felipe quindi come promesso farà il suo dovere e si dichiarerà colpevole il tribunale quindi renderà valido a tutti gli effetti l'annullamento del matrimonio servante ha rubato alcuni manufatti antichi trovati durante degli scavi ma ramon non lo sa ed incarica l'uomo di sorvegliare la zona il piccolo tirso miracolosamente torna a vedere teresa nel frattempo ha riacquistato la tranquillità e piano piano si sta avvicinando sempre di più al marito fernando caietana prosegue nel suo malefico piano cioè far finta di essere buona ed aspettare che teresa si innamori veramente di fernando a questo punto il piano della dark lady entrerà nel vivo la donna le ruberà il marito e poi farà sparire anche tirso susana è intenzionata a raccontare tutto ad arturo circa la relazione tra simone ed elvira il maggiordomo quindi è costretto ad interrompere la relazione consuelo finalmente confesserà a serie di essere gravemente malata pablo e victor stanno per partire alla ricerca di leonore ma all'improvviso la donna apparirà dal nulla visibilmente cambiata lasciando tutti senza parole se una vita ti appassiona metti un bel mi piace iscriviti al canale premi sulla campanella per non perdere le nostre migliori anticipazioni